Si chiama Tomosintesi digitale ed è una tecnologia rivoluzionaria per lo studio della mammella. L'upgrade dell'esame della mammografia si chiama appunto Tomosintesi ed è applicata presso i centri Verrengia. La prevenzione nel tumore al seno, che è la neoplasia più frequente in assoluto nella popolazione femminile perché colpisce una donna ogni otto durante la vita, è fondamentale perché aiuta la diagnosi precoce di un eventuale tumore e ne facilita il trattamento. In questo ambito un esame fondamentale proprio per la diagnosi precoce è la Tomosintesi digitale. A spiegare i vantaggi di questa nuova tecnologia è il professor Domenico Verrengia. Il tubo della macchina in Tomosintesi oscilla come il tubo della TAC, per cui prende il nodulo sospetto della mammella da varie angolazioni e in questo modo cancella le ombre di trasporto. Parliamo di colori, così mi è più facile farmi intendere da chi mi ascolta. La patologia che noi cerchiamo nella mammella, in radiologia, è di colore bianco. Trovare una macchia bianca su un fondo bianco, che è il fondo della mammella moltissime volte, è molto difficile, bianco su bianco. La Tomosintesi risolve questo problema. Il fondo, con questa tecnologia, diventa nero e la patologia rimane bianca. Quindi è un avanzamento tecnologico enorme. È importante per noi che crediamo molto nella prevenzione, nell'arrivare prima della malattia, è importante che quando c'è un dubbio su una mammografia digitale, la struttura possa disporre della Tomosintesi digitale delle mammella. Oggi la radiologia è tutta tecnologia. Puoi essere un radiologo bravo, nel nostro piccolo e nel mio centro cerchiamo di essere aggiornati, di studiare dalla mattina alla notte, sempre. Perché senza di questo non vai da nessuna parte. Ma la tecnologia nella radiologia moderna è tutto. Puoi essere bravissimo, ma se non hai la tecnologia giusta, non arrivi dove può arrivare oggi la scienza radiologica. Ecco perché noi adesso continueremo le nostre campagne di prevenzione. Ma per quanto riguarda la mammella, adesso abbiamo uno strumento straordinario nelle nostre mani.